Dati importanti, quelli ottenuti dall'ARIC, l'Agenzia regionale per l'informatica e la committenza durante il periodo della massima emergenza sanitaria per il Covid-19. Un lavoro enorme, quello svolto durante il commissariamento sotto la guida di Daniela Valenza. 950 milioni di euro di gare a favore prevalentemente delle ASL, gare aggiudicate per un miliardo. 167 milioni di risparmi con tutte le cose fatte per fronteggiare l'emergenza Covid, realizzando le procedure di gara per l'ospedale Covid di Pescara e per le attrezzature necessarie. Fondamentale il lavoro per la rete Covid, con oltre 40 interventi di edilizia sanitaria in Abruzzo, questi i numeri. Si è fatto anche il punto, durante una conferenza stampa in Regione, degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei presidi ospedalieri della ASL 1. Tutti interventi ultimati sull'Aquila, Vezzano, Sulmona e Castel di Sangro. Stessa cosa per la ASL di Teramo, mentre per quella di Pescara, solo un intervento ancora in via di ultimazione e così per la ASL Lanciano Vastochieti. In conferenza stampa il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha parlato di un'agenzia che, quando è stato eletto, era praticamente allo sbando. I dati più salienti sono una moltiplicazione delle gare effettuate e dei relativi risparmi conseguiti attraverso questa modalità di spesa accentrata, di gare accentrate. Noi abbiamo trovato un'agenzia praticamente abbandonata a se stessa, senza né indirizzi né capacità operativa, addirittura non aveva neanche il rappresentante legale quando io sono stato eletto. Ed è veramente un misfatto, perché la centrale di committenza è quella che garantisce all'amministrazione non solo la trasparenza negli acquisti e nelle forniture, ma anche e soprattutto accorpando, accentrando la spesa e facendo grossi volumi di poter davvero risparmiare. Un grazie particolare va alla dottoressa Valenza, Daniela Valenza, che ha svolto questo ruolo da commissario e ha sostanzialmente davvero resuscitato un ente moribondo e lo ha trasformato in un asset fondamentale per il rilancio dell'amministrazione, come anche si è dimostrato durante tutto il periodo del Covid, con il potenziamento della rete Covid. Tutti gli appalti sono stati affidati, a cominciare dall'ospedale di Pescara, ma tutte le opere del potenziamento della rete Covid sono state affidate a lei. Adesso il nuovo direttore Donato Cavallo, che è una persona di grandissima esperienza, sta a sua volta rilanciando questo ente per potenziarlo e per metterlo anche al servizio di tutto il territorio regionale. Con lui la dirigente Daniela Valenza, già commissario straordinario Ari, che è il nuovo direttore Donato Cavallo, presente anche l'assessore delegato Guido Quintino Liris.